Buongiorno a tutti e buon mercoledì, mercoledì venticinque maggio. Noi siamo pronti per la nostra prima diretta di oggi dedicata come ogni giorno alla lettura dei quotidiani, dei titoli principali e quantomeno alle mie spalle. Vedete già le prime pagine dei quotidiani nazionali e da lì che iniziamo la nostra rassegna stampa per poi spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali e sullo sport. Il Corriere della Sera apre con una notizia che poi ritroveremo anche sugli altri quotidiani. Il piano di pace, il no di Mosca Medvedev boccia la proposta italiana. Di Maio dice è solo allo stato embrionale. Intanto a Mariupol sono stati trovati altri 200 corpi tra le rovine. E poi la cosiddetta guerra del grano, il grano ucraino bloccato nei porti dell'Ucraina, il primo treno in Lituania. Si cercano vie alternative per far uscire, per esportare il grano dall'Ucraina. Nelle taglio centrale, una notizia che ci porta negli Stati Uniti con l'ennesima sparatoria in una scuola, la strage dei bambini a scuola, almeno 18 alunni e due adulti tra le vittime. Ucciso il killer diciottenne. Una scia di studenti morti torna l'incubo. Columbine scrive il Corriere della Sera. Di spalla il nuovo capo dei vescovi Zuppi, il prete degli ultimi, nominato capo dei vescovi. Questa la scelta di Papa Francesco, il cardinale Matteo Zuppi, 66 anni, arcivescovo di Bologna e il nuovo presidente della conferenza episcopale italiana, nato a Roma e da sempre vicino alla comunità di Sant'Egidio. Zuppi succede al cardinale Bassetti. Andiamo sulla prima di Repubblica e vediamo nel taglio alto proprio questa notizia. Il Papa sceglie Zuppi, il cardinale degli ultimi. L'arcivescovo di Bologna è il nuovo presidente della CEI. E poi nel taglio centrale Putin affama il mondo. Von der Leyen parla di segnali di una crisi globale del cibo. La Cina pronti a mediare per i corridoi nel Mar Nero. Orban blocca ancora l'embargo sul petrolio russo. Missione di Draghi in Israele per discutere di gas e eh Ucraina. E poi vediamo nel sommario di Maio Medvedev scontro sul piano di pace eh italiano. E anche qui orrore in Texas massacro nella scuola elementare uccisi quattordici bambini e un eh maestro. Da Repubblica andiamo adesso sulla stampa. Oligarchi il pugno dell'Europa scrive la stampa. Il piano per confiscare un tesoro di trecentocinquanta miliardi ma eh Orban come abbiamo letto anche su Repubblica tiene duro sullo stop al eh petrolio di Mosca. Cresce la tensione sul grano. Londra vuole eh inviare la Royal Navy eh jet russo-cinesi sul eh pacifico Xi Jinping risponde a eh Biden. Ancora chiudiamo anche la stampa e andiamo a vedere il manifesto. Niet a tutto titola il manifesto. Le sorti del conflitto sempre più legate all'offensiva russa che stringe il cerchio intorno alle città del Donbass. A eh Svero Donets colpito per la prima volta un impianto chimico. Cresce l'allarme globale per il grano bloccato. Piano di pace italiano primo secco no da Mosca. Questo è il eh manifesto. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del giornale che invece apre con un'altra notizia aperta un'inchiesta truffa sulla spesa scrive il giornale confezioni uguali meno prodotto stesso prezzo. Il fenomeno è esploso con l'inflazione e l'antitrust indaga. Intanto l'Unione Europea ci bacchetta sul eh debito. Balneari c'è l'accordo ma Draghi non cede su PNRR e eh atlantismo. Dalla prima del giornale andiamo adesso su Libero. Il Corriere prepara la trappola per Giorgia scrive il eh Libero. Via Solferino sogna l'accordo PDI e Fratelli d'Italia. L'obiettivo è evidente distruggere il eh centrodestra e eh la eh Meloni. Ancora andiamo sulla verità. L'esattore delle tasse per conto dell'Europa. Letta difende a spada tratta ogni sospiro di Bruxelles e continua ad attaccare Salvini. Vuole a tutti i costi la messa all'asta delle spiagge e la riforma del catasto e per ottenerle mentre dicendo che senza queste riforme svaniscono i soldi del PNRR. Ancora chiudiamo anche la verità e andiamo adesso sul fatto eh quotidiano. C'è un eh un intervista a eh Gratteri al PM Gratteri che dice l'antimafia di Draghi c'è aria di Liberi tutti il Jacuzzi di Gratteri che ospite eh di Maurizio Costanzo ha detto il premier sa solo di finanza è la restaurazione. I politici si vendicano su noi eh PM. Chiudiamo anche il fatto quotidiano andiamo a nord est con il gazzettino. Balneari trovato l'accordo scrive il gazzettino proroga fino al duemilaventiquattro delle concessioni. Se ci sono difficoltà oggettive o eh contenziosi. Il nodo degli indennizi stabiliti criteri per il risarcimento degli eh investimenti eh fatti. Trattativa all'ultimo miglio dunque sulle DDL eh concorrenza occorrerà sciogliere il nodo degli indennizi ma sulle concessioni balneari l'accordo è eh vicino. Andiamo nel taglio centrale adesso dove eh troviamo la cronaca ma anche lo sport per quanto riguarda lo sport il giro d'Italia che arriva a nord est domani sarà Treviso venerdì lo ricorderemo sarà in Friuli Venezia Giulia Carapazza sempre in rosa ma al distacco si riduce. Per la cronaca furto di ostie in chiesa allarme del parroco fanno le messe nere. A Valdobbiadene è forzato il tabernacolo ma gli oggetti di valore non sono stati toccati. Chiudiamo anche il gazzettino. Andiamo adesso sul sole ventiquattro ore. Appalti ecco come cambiano le regole concorrenza ultimi ritocchi eh all'intesa. Via libera dunque della camera alla delega sul nuovo codice per eh la griglia con trentatré eh criteri per quanto riguarda appunto gli eh appalti e poi eh per quanto riguarda il le concessioni balneari e trattative eh sui maxi indennizzi ai concessionari eh uscenti ecco il titolo di apertura del sole e ventiquattro ore. E poi vediamo anche la fotonotizia che ci porta a parlare del progetto del rover italiano su Marte e la guerra allontana la missione europea su eh Marte scrive il eh sole. La gazzetta dello sport adesso andiamo a vedere anche quali sono i titoli sportivi eh principali della giornata di oggi. Nel taglio centrale eh l'Inter fermo io quel pullman il piano di Zang di bala e non solo vertici all'Inter il presidente dà il via libera per l'assalto alla gioia a Mkhitaryan e eh a eh Aslani eh rinnovo per Inzaghi la prossima settimana nerazzurri avanti tutta per la rivincita eh derby e in casa Milan sarà Euro Milan in arrivo big e giovani talenti eh scrive la gazzetta eh dello sport Redbird ha pronto un max investimento Leao piace a Real ma Maldini sa come eh blindarlo e intanto è ancora tempo di calcio giocato con la finale di Conference League questa sera la Roma sfida il Feyenoord mu pensaci e tu l'Italia si affida allo special per riconquistare una eh coppa ma eh a Tirana dove si giocherà la finale è eh allarme scrive la eh gazzetta ci sono stati degli scontri e ci sono quindici eh feriti. Torneremo più tardi sulla gazzetta dello sport per dare un'occhiata anche alle pagine in cui si parla di Udinese adesso andiamo sui quotidiani locali gazzettino messaggero veneto piccolo vediamo assieme i titoli e principali il dorso del friuli del gazzettino apre con la eh politica ieri in consiglio eh regionale l'intervento del presidente eh Fedriga che blinda eh Riccardi e si eh ricandida opposizioni all'attacco del vice governatore per la gestione della sanità ma il consiglio respinge la mozione di eh censura nei confronti di Riccardi presentata dalle eh opposizioni il presidente leghista rompe gli indugi e annuncia la sua corsa al secondo mandato porterò avanti il eh lavoro eh fatto queste le parole di Fedriga ma andiamo a sentire un breve strato del suo intervento in aula. La mia solidarietà molto convinta la cosa spiegava il vice presidente Riccardi invece permettete esprimo una fortissima solidarietà ai dirigenti e professionisti della sanità del Ferenza Giulia della direzione salute delle aziende sanitarie perché il dibattito politico l'ho visto di tanti tipi anche in Parlamento ci sta tutto ma voler umiliare voler denigrare voler offendere professionisti della sanità che hanno tutti i titoli per riproprire perché sono del proprio per tutto che lo prevedono il ruolo che ricoprono che ricoprono lo reputo una cosa indegna e scusate sotto questa chiarezza ma soltare risposto in momento emergenziale e ad essere vicino alla nostra comunità regionale perché squalificare il dibattito di questo consiglio che può essere duro e acceso perché voglio che sappiano i professionisti della sanità di questa regione che c'è la totale sima da parte dell'amministrazione regionale verso il loro lavoro e il loro sacrificio soprattutto in questi due anni di pandemia. Il nostro paese è di professionale sanitario sì e lo continuiamo a rispettare. Sapere che l'intera salute perché non prende il personale non assume e non dà risposta alla salute è una menzogna. E proprio per questa voglia di andare avanti ancora più motivato da questa mozione di oggi io ribadisco con ancora più forza a seguito dell'atto odierno la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni proprio per portare avanti l'importante lavoro che abbiamo fatto insieme e su questo chiederò ovviamente la fiducia dei cittadini. Grazie. Queste dunque le parole di Fedriga sempre a proposito del consiglio regionale. Il consiglio regionale costa 18 milioni e mezzo questo quanto emerge dal bilancio. Per la cronaca botte agli anziani ospiti della RSA arrestati tre operatori. L'esito dell'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS di Udine e vediamo che questa inchiesta riguarda il Casa Serena a Grado. Questo quanto emerso appunto dalle indagini dei NAS. Ancora andiamo a vedere un'altra notizia di cronaca morta per overdose uno straniero iscritto nel registro degli indagati. È stato individuato lo spacciatore colpevole di aver venduto l'ultima dose fatale di cocaina a una donna di 37 anni originaria di Udine. A centro pagina la fotonotizia eccola qua il Friuli si scalda per l'arrivo del giro in regione quest'anno una sola giornata venerdì da Marano a Cividale. Di spalla si parla di energia, un progetto il calore disperso diventa energia nella zona industriale del Ponte Rosso. Ancora vediamo eh le le classifiche direttrice Croa al terzo posto in Italia per la ricerca nel taglio basso l'assemblea di Civibank che slitta al prossimo mese in attesa della decisione del Tar sul ricorso eh di Civibank appunto contro l'Opa di Sparcasse e poi i lavori della giunta comunale eh di Udine che tra le eh delibere approvate eh ieri ehm ha inserito anche quella che prevede eh due progetti importanti con i fondi di LPNRR l'ex caserma diventa un centro per i senza tetto l'ex caserma dei vigili del fuoco in via eh Cussignacco ma andiamo a sentire le parole dell'assessore Laudicina che ci fornisce i dettagli e di questi eh progetti che saranno realizzati in città con i fondi del PNRR. Si tratta di un fondo di 5 milioni e cento si tratta di una linea contributiva che deriva dal PNRR che riguarda appunto i servizi sociali quindi il comune di Udine ma non da solo naturalmente insieme anche con i comuni che fanno parte dell'ambito del Friuli Centrale e io non da sola insieme con anche l'assessore ai servizi sociali Giovanni Barillari abbiamo insomma individuato io per la parte diciamo amministrativa contabile del patrimonio lui diciamo per le linee da seguire quali potevano essere gli ipotetici investimenti e i punti della città interessati a questo tipo di interventi. Ne abbiamo individuati due uno è l'immobile cosiddetto ex Cisme che si trova in via Urbanis lì ci saranno interventi sia per quanto riguarda il cosiddetto housing first quindi la creazione di appartamenti per persone senza fissa dimora e che all'interno potranno trovare sia un luogo in cui stare ma anche un luogo confortevole un luogo diciamo dove iniziare un percorso di nuovo di tra virgolette non è bello il termine ma comunque di ricollocazione la e si tratta di un'occupazione temporanea che dovrebbe durare mi sembra dalla norma preveda circa 24 mesi. L'altro intervento riguarda sempre l'immobile ex Cisme e riguarda gli anziani non autosufficienti lì si tratta di un intervento di quasi due milioni e mezzo di euro dal punto di vista delle infrastrutture e poi il terzo immobile il secondo immobile scusatemi individuato è l'immobile che si trova una parte dell'immobile che si trova dove c'era l'ex caserma dei vigili del fuoco in via Cusignacco e lì invece verrà creata una cosiddetta stazione di posta la stazione di posta è un luogo dove possono trovare diciamo ricovero rifugio e le persone che anche queste senza senza fissa dimora è un luogo dove possono andarci per un giorno ma la speranza è invece che ci vadano per più tempo e possono trovare un posto sia dove dormire sia anche naturalmente un luogo per come ristorazione probabilmente anche un presidio socio sanitario e anche qui naturalmente un luogo dove eventualmente iniziare un percorso di ricollocazione di confronto per inserirsi diciamo nella società e anche nel mondo del lavoro in totale insomma appunto come si diceva prima l'investimento per quanto riguarda l'housing first sono 710 mila il centro diciamo per gli anziani non autosufficienti sono 2 milioni 460 mila e per quanto riguarda l'ex esarme dei vigili del fuoco la castazione di posta sono un milione cento andiamo rimaniamo nel taglio basso della prima del gazzettino cioffi voleva un biennale deulofeue in partenza queste le anticipazioni delle notizie che poi troveremo sulle pagine sportive dove c'è spazio anche per la palla canestro con l'old wild west che raddoppia ha battuto anche ieri sera chiusi chiusi ancora al tappeto in gara due finita 72 a 70 per udine lasciamo il gazzettino e andiamo sulle sulla prima pagina del piccolo vediamo se riusciamo con l'aiuto della regia ad andare sulla prima pagina del messaggero veneto di udine così vediamo anche le altre prime pagine ecco qua in apertura del messaggero veneto di udine vediamo il titolo principale terzo mandato ai sindaci nei comuni più piccoli presentato un emendamento alla legge omnibus l'ok tra oggi e domani il pd chiede più tempo il centrodestra ha deciso di consentire ai sindaci dei comuni del friuli venezia giulia fino a 5 mila abitanti di potersi presentare per un terzo mandato consecutivo la giunta infatti ha presentato un apposito emendamento alla legge omnibus in discussione in aula e vorrebbe ottenere il via libera dal consiglio tra oggi e domani il pd però per bocca del capogruppo diego moretti chiede più tempo e lo spostamento della discussione nella commissione competente questa l'apertura del messaggero veneto nel taglio centrale anziani maltrattati in casa di riposo tre arresti alla casa di riposo comunale casa serena di grado di spalla il piano operativo dell'azienda sanitaria puntare sul territorio si parla del nuovo atto eh aziendale e poi frasi contro gli ebrei condannato un vigile udinese in casa del sospettato trovati oggetti della donna uccisa rifanno il marciapiede a un mese dalla posa della pietra d'inciampo andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di udine e vediamo proprio l'approfondimento sul sulla sanità approvati i piani per la sanità più assistenza sul territorio le scelte per il futuro dell'azienda sanitaria friuli centrale i sindacati dicono ci sia illustrato il eh documento andiamo sull'edizione di Pordenone del messaggero veneto e vediamo anche qui eh i titoli eh principali in apertura vediamo sempre eh l'emendamento eh presentato in consiglio regionale per un terzo mandato ai sindaci dei comuni eh più piccoli e poi a proposito di sindaci vediamo a Maniago il pienone al dibattito con i eh candidati eh sindaco di spalla san Vito in luto per Claudia morta nel sonno a 48 anni nuove regole sui rifiuti aumenta la protesta a Valle Noncello a Sacile venti minuti in fila al passaggio a livello il comitato dice ora basta la prima del messaggero veneto di eh Pordenone si parla dell'estate in città l'estate in città si trasforma e invade le piazze e i parchi nascono le arene Cimolai OVS e Despare il cinema all'aperto sarà in largo San eh Giorgio presentato il eh cartellone degli eventi eh dell'estate a eh Pordenone. Chiudiamo anche questo quotidiano andiamo sul piccolo il piccolo di eh Trieste Ucraina l'Italia spinge per i Balcani nell'Unione Europea Draghi e Di Maio in pressing per eh l'allargamento contro i rischi eh di destabilizzazione e poi vediamo anche qui la cronaca con eh l'inchiesta per eh i casi di eh maltrattamento in casa di riposo a grado arrestati tre eh operatori. Ancora eh chiudiamo eh il eh piccolo di eh Trieste e andiamo su quello di Gorizia vediamo anche qua le notizie eh principali in apertura troviamo proprio i eh maltrattamenti sui maltrattamenti in RSA arrestati tre eh operatori otto gli ospiti eh coinvolti eh si tratta di dipendenti della cooperativa KCS che gestisce casa eh Serena e poi eh a centro pagina invece la fotonotizia ci porta a Monfalcone lavori in piazza le auto devono restare eh fuori chiudiamo eh anche questa pagina eh del eh piccolo di eh Gorizia e adesso torniamo su Messaggero Veneto e Gazzettino per dare un'occhiata assieme alle notizie sportive alle pagine sportive dei eh quotidiani eh di oggi cominciamo con eh l'Udinese Udinese non soltanto Cioffi Deulofeu corre verso Napoli eh scrive il messaggero sonore frenetiche in casa bianconera con un allenatore da sostituire e il dieci destinato all'addio telefonata del DS Partenopeo eh giuntoli forte del gradimento di Egeri costa almeno venti eh milioni e anche il leader dei passaggi chiave in eh serie A eh scrive il messaggero a proposito eh di eh Deulofeu. Nella pagina successiva eh cominciato lo stage azzurro ma oggi deve arrendersi il bianconero ha pagato l'infortunio patito a Salerno ed è stato rimandato a casa e nel primo gruppo con Vicario e eh Cambiaghi era nel primo gruppo con Vicario e Cambiaghi oggi oggi a Coverciano arriva il baby eh Pafundi. Rimaniamo sul messaggero Veneto ma eh vediamo eh andiamo subito sulle pagine dedicate al basket per la pallacanestro Apu all'ultimo respiro chiusi va sotto due a zero con super cappelletti e eh i liberi di eh Walters il play e tiene a galla Udine quasi sempre sotto nel punteggio a tre secondi dalla fine il sorpasso del pivo americano dalla lunetta è finita eh settantadue a settanta per Udine e Boniccioli dice se è accesa la luce grazie all'aiuto eh del eh pubblico chiudiamo il messaggero Veneto torniamo sul gazzettino e visto che stavamo parlando di di eh pallacanestro partiamo proprio dalla eh dall'articolo dedicato all'Old World West in difficoltà ma chiusi paga Dazio i bianconeri vanno sul due a zero nella serie con i toscani e prenotano l'ultimo atto a tre secondi dalla fine fallo su Walters i tiri liberi portano i due punti della eh vittoria e poi vediamo le prime righe si dice che la fortuna aiuti gli audaci e Brandon Walters è stato in effetti il più audace di tutti andando a prendersi un fallo a rimbalzo a tre secondi dal termine di gara due e realizzando poi entrambi i eh liberi l'Udinese adesso sempre sulle pagine del eh gazzettino eh ecco il retroscena di un addio Cioffi voleva un biennale scrive il eh gazzettino le analogie con il caso di Galeone nel novantacinque che sparò alto per rinnovare l'intesa anche lo staff pronto a eh passare al eh Verona i candidati per la panchina più zanetti che pecchia semplici torni di moda torna di moda idea eh sottile questo quanto dicono i rumors di ehm mercato e poi eh le parole eh del direttore Pierpaolo Marino che dice il mio telefono eh continua a squillare Udine è una meta ambita ma il tecnico dovrà adeguarsi al progetto e poi eh il procuratore di Deulofeuce l'accordo con il club per lasciare partire eh Gerard queste le eh quanto scritto sul eh gazzettino e poi vediamo arriva il giro dal mare ai monti in centosettantotto chilometri laguna collinare strappi e tornanti il Friuli si prepara si prepara a vivere una giornata emozionante in un bagno di eh folla questo ovviamente eh per la giornata di eh venerdì. Chiudiamo il ehm gazzettino andiamo sulla gazzetta e vediamo eh la doppia pagina eh in cui si parla di Udinese e eh in particolare di Deulofeu con il Napoli che spinge per eh Deulofeu a sinistra o in mezzo quel carico di fantasia che serve a spalletti lo spagnolo e polivalente la gente conferma che lascerà l'Udinese dell'Aurentis ci eh prova. E rimanendo sui e quotidiani sportivi nazionali andiamo a vedere anche eh tutto sport e eh corriere eh dello sport tutto sport scrive Juve e Chiellini eh lo faccio io bianconeri a caccia di un difensore ecco i quattro eh candidati per raccogliere a raccogliere l'eredità del capitano Milenković Koulibaly Gabriel e eh Igor e poi per ovviamente eh ci sono tante voci eh di mercato eh in questi eh in questi giorni sui quotidiani sportivi però c'è anche ancora il calcio giocato con Roma salva Italia Conference League alle ventuno a Tirana finale con il Feyenoord eh per la eh Roma chiudiamo il eh tutto sport e andiamo sul corriere dello sport per chiudere questa nostra rassegna stampa vediamo anche qui Murigno fa l'Italia Roma eh Feienord adesso è eh tutto e recupera Michi Tariana Tirana dodici anni dopo Madrid può regalare un trofeo a eh un nostro eh club e con questa prima pagina con la prima pagina del Corriere dello Sport noi siamo arrivati alla fine di questa nostra rassegna stampa di oggi come sempre vi ricordiamo i principali appuntamenti di questo mercoledì sul nostro canale con il Tg che ritorna in diretta alle dodici poi è l'appuntamento delle quindici con pomeriggio calcio l'informazione live ancora alle sedici alle diciannove alle diciannove e trenta Tg Sporti alle diciannove e quarantacinque il Tg News Pordenone alle venti e quarantacinque le pillole di Fair Play in prima serata eh la l'edizione nuova di case da sogno settima edizione e poi è alle ventidue e trenta l'ultima edizione del Tg il Tg della notte è davvero tutto vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro ancora una buona giornata Amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo ci attende un mercoledì con tempo variabile sul friuli Venezia Giulia a causa dell'ingresso di correnti più umide provenienti da ovest cieli infatti irregolarmente nuvolosi con pioggia acquazzoni sparsi che insisteranno specie sui rilievi non escluso che qualche piovasco poi possa sconfinare anche in pianura temperature il leggero calo con massime che localmente toccheranno anche i 28 29 gradi nel dettaglio infatti sulle province di Pordenone Udine giornata con tempo instabile piogge e acquazzoni sui rilievi dove non escluso anche qualche temporale situazione migliore in pianura temperature comunque che toccheranno i 28 29 gradi nelle ore centrali della giornata sulle province di Gorizia e Trieste invece avremo tempo più asciutto possibile solo qualche breve e isolato piovasco sulla provincia di Gorizia sole protagonista altrove temperature massime fino ai 27 29 gradi per dettagli maggiori scaricate e consultate l'app di travi meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti